salve a tutti i navigatori del tubo e siamo gli mmgames io sono mr e io mk e riprendiamo qui da pokemon y e nel frattempo qui ci siamo un po cambiati un po d'arte siamo messi un giubbettino cambiati un po di pantaloni un po più eleganti siamo un po più fighi cappellino ma si è un po più fai e allora qui che fa bella scena proprio si vede lontano con quel cappellino bianco e bene comunque come di nostro consueto vogliamo aprire i nostri video ringraziando le pagine che ci stanno aiutando a crescere e facendoci pubblicità di qua di là di su di giù come figaro in pratica figa e quindi vogliamo ringraziare e salutare queste pagine in modo tale che voi vi potete iscriversi iscrivervi anche alle loro pagine cominciamo subito la wonder town tepi e fa car pokémon che passione le avventure di caspin ed emolga i pokémon hanno rotto perché sono troppo fighi e vado avanti dai il mio magica è più figo di te sempre di me sempre pokémon mountainous region pokémoni pokémondo e mondo pokémon bene e quindi adesso possiamo proseguire appunto non ci fermiamo a cinci schiare e andiamo in avanti non indietro parlando col tassista parlando col tassista vediamo un po quanto vuole sto bastardo 710 euro ma c'è di euro crediti vabbè perché cazzo sono zene dove città sul caffè e lisio poi poi ti porti lì allora no portami spiaggia ma porca puttana se ti dico un caffè e lisio non è che ti pago cazzo un po' un po' di di suspense di velocità siamo arrivati siamo arrivati fanno 1.500 il doppio questo è il problema che non ti lasciano portare una mazza da baseball nello zainetto lì ecco questa non ci non ci sta però dove parliamo con l'armadio parliamo con l'armadio l'armadio ci risponde dice che cazzo vuoi quindi sfidiamo e quindi sfidiamo la tipax e complimenti anche la recluta del team però questa è un infiltrata non è in uniforme e nimborghese e troviamo un liepard un liepard che ne uccidiamo con sgranocchio massimo l'hcifrino il nostro snorlax come se abbiamo teniamo lui per primo per chi si fosse collegato solo adesso teniamo lui per primo perché è molto come dire lento al salimento del suo livello al salirò al salirò dal livello quindi teniamo lui per motivi tattici tecnici e sostitutivi e appunto salutiamo anche qui il liepard e anche la tipa che si chiama non ha nome svegliamo senza nome recluta salutiamo rei ma c'è il numero vabbè sorvoliamo anche su queste altre bicchiate vediamo se riusciamo che pure quello l'abbiamo fatto anche lui non mi ricordavo bene dammi un pezzo bastardo uno scara scraghi no no questa qui è l'evoluzione di scrafti scrafti un po' dopo scraftato appunto e ci sorridere di sottruce ma non ci può fare una cina la velocità ma c'è la lente come la merda appunto cioè qui lento più lento meno da qui non facciamo un cazzo però deve deve aumentare la velocità del rotolamento ancora ma certo perché tipo una valanga che gli va addosso certo c'è una valanga di ciccia bene e qui aumenta leggermente di un cazzo piano piano se non ci uccide ma tanto noi abbiamo il pica pica piccaciuccialo ma si a limite tiriamo fuori il pica ci e li facciamo vedere noi facciamo vedere il pica ci sfumeggianti e vabbè caccio in volo e ci ucciderà brutalmente penso e infatti infatti è andato a fa culo il nostro snorli poverino ogni volta viene ucciso brutalmente da questi cattivoni vediamo se il nostro pipì riesca a batterlo con una voglia di pica mi fa schifo ma anche a me fa schifo guarda qui guarda qui la potenza in un'idea che adesso ci uccide con visotruce addirittura dopo sputa e ci scioglie ci scioglie usiamo attacco rapido facciamo una cosa tecnica attacco rapido vediamo un po' tac tac e niente usa visotruce perché è handicattato ma c'è perché già la faccia tutto il programma noi attacchiamo rapidamente calcio in volo calcio in bocca attenzione no porco giuda non si può avere un membro così in scuola mai non lo so occupa uno spazio così tanto per stare in scuola mangio panno a tradimento con questo pico va bene così tanto abbiamo lo cambieremo con blagico col cazzo lo cambieremo col cazzo almeno fa più danno colpo di cazzo occhio nero sorvoliamo su questo discorso ci chiamo di apriti sesamo sedano 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 cioè il minestrone il minestrone non mettere il viagra nel minestrone eh certo attenzione qui troviamo subito il mondo è giunto alla fine del suo cammino non tutte le vite potranno essere salvate solo i prescienti avranno un biglietto per il futuro e tu desideri anche tu il tuo biglietto oppure vuoi cercare di fermarmi dimostrare le tue intenzioni da lontano finito? no bene adesso possiamo uccidere bene guarda qua che fai il filo se hai sbagliato il gameplay mi sa eh ma si apriva gli occhi eh beh mi è fu perché fu perché una volta una volta era a Vienna adesso è è culo è culo eh vabbè adesso lo gli diamo fuoco proprio lo bruciamo alla dei piromani esatto facciamo la flambè la flambè la flambè se riusciamo almeno a ucciderlo massimo no bene e adesso i trovani i trovani ah non siamo morti vabbè intanto il culo serve anche noi proviamo con questa mossa anche se non avrà un grande effetto io l'hai provato a cambiarlo comunque vedo lei perché lei che guido lo lasciamo le guida le guide e quindi lui deve morire anche certo ricorda di che devi morire a 7 quindi mori quindi mettiamoci un bel venu invece invece che ha messo blastoise va bene ci può stare anche un blastoise così che gli spara una cannonata nei denti non so vabbè ma loro a lei proprio le piace vincere facile proprio ponchi bonchi capocciata pure ma si esageriamo abbondiamo massimo la difesa il basto aumento gherito su un oltraggio cadendo di batterci ma in realtà non ci fa una merda e così la nostra testa gli finirà nel culo eeeh se c'è là se c'è là hai qualche parola a cagare ma che c'è solo un buco dalla bocca buono mangia cagare pensa alla moglie macro 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 vabbè non mi offendo così tanto ah quel macro pensavo macro con quell'altro di essere il marco eh vabbè eh cos'è notte sferze che attacco ho usato notte sferze ah allora tutto giusto eh noi siamo un'idrondata e lo idrondiamo brutalmente proprio e muore eh certo e muore perché ma adesso apposta più o meno tutti quanti devono fare sta fine eh contro i noi tanto l'ha detto anche Elisio che tutti devono morire chi? Elisio ah Elisio io ho scelto Blastoise dall'inizio perché sapevo che avrebbe messo questo eh certo ha fatto bene ha fatto bene anche se anche se io avrei messo velo e poi dopo avrei messo il blasto comunque sempre a cambiare sempre a cambiare poi si consumano le dita diceva Fiorella Mannoia come si cambia come si cambia come si cambia e poi citate la tre voglio cambiare no? no no possiamo anche citare mi dai il suo fustino mi in cambio di due ma c'è non si può citare anche questo fustino? che fustino? vabbè se lo vogliamo su ste minchiate qui troviamo un ascensorino che che serve la chiave? che serve la chiave dobbiamo cercare la chiave allora cazzo sta la chiave ce l'hai lì in culo appunto prendiamola prendiamola addosso mega capucciata non di blasto sulla nostra e cerchiamo ah adesso ricordo questo pezzo adesso come dire il pezzo gira 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 volta fa una gira volta guarda in giù e te lo prendi appunto guarda la sfida con reglota per questa qui anche non su amore questo che basta mi sembra l'ho già visto ma non ho mai mi ricordo su alozo muori poche volte l'ho visto meteo il pugno metto al pugno fatto massimo e vediamo e muore e muore se non muore entriamo noi entriamo noi ma che cazzo è oh vuoi morire bastardo ma sacriamo di botte facciamo entrare dentro nel gioco ma si comunque ha visto come gli scende bene il capottino il giubbino è certo noi siamo mica così qua a fare mica siamo qua a grattare i peli del culo ai macachi è bobo micio micio mica ciccio ciccio mangia papà dobbiamo battere il popolo si qui troviamo la parta la sfida con che cazzo ti hai in faccia cazzo faccio la cazzo anche il bisogno anche il bisogno dopo gigio cos'è che ha detto ciena ok ho capito dopo gigio ok ma il pieno ma il pieno ma il pieno con il nostro metagross che potrebbe essere un nome da giocatore di fila metagross che non è tutto grosso è metagross vabbè metà al pugno e lasciare un pelle contro maitiena maitiena va capo e se ne va che ancora forse abbiamo scoperto cosa è abbiamo scoperto cosa vuol dire capo non so ricordo cutting out o è out e quindi italiano sarebbe tipo voleva dire come sei a terra hai perso bene ringraziamo lo stesso il nostro fan che ce l'ha detto però non ci ricordiamo un cazzo quindi doveva spiegarcelo meglio insultiamo insultiamo insultato anche lui vabbè quindi nel frattempo troviamo un 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 pokemon drago drago di tipo drago drudigon drudigon bene vabbè allora lo so devo leggere anch'io abbiamo fatto questa manfrina per niente ma io non so qui ci si crano che non dovrebbe farci molto a parte ucciderci porca mignotta siamo morti mortacci giù e mettiamo ti amo pikachu ma che pikachu è morto 3.000 anni va ma lei non revitalizza niente lei proprio che vitalizza lo scherzo ma che cazzo ma finisca la finisca un giorno inquadrerò anche la sua faccia mentre le stiamo registrando gaius gaius intanto qui sconfiggiamo pinko pallino ancora il drago 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 si fa vedere cheat merlin ah cheat merlin la famosa serie chi non ha visto la famosa serie ma lo foco ok vi andrei sul verde perché il giallo sul giallo bisogna fermarsi ritornare dietro appunto il rosso invece si è finita comunque lì mi sembra che ha saltato un luogo dove potevamo andare non sono non andavo io andavo da soli si dico dopo se a tempo se a voglia se se vada 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 io intanto però sto vedendo che l'inquadratura è leggermente vede 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 allora va bene guarda sai che io sono il maniaco della perfezione il maniaco del pisello come vabbè no no non esaggere esagire allora suolo suolo ci sta cercando di avvelenare lei mi ha fatto un brutto colpo contro gigio contro venusaur contro venusaur ci non fare avvelenare davvero usiamo questa mossa e finiamolo con bellezza ah però no però la mossa è campari sulla raggio ah sulla raggio sulla raggio vabbè io direi che qui è eccessivo ma ci sta la morte questo sbocca intanto come mamma l'ha fatto perché è tutto uno sbocco qualcosa lì certo è proprio questi cazzo di baffi da ciccin ciccin è vero è vero non l'abbiamo non è morto perché si picchia da solo perché se lo merita se si picchia da solo che cosa è che sono il mio personaggio ah ok vabbè quindi abbiamo fottuto una mega evoluzione così senza un risultato utile vabbè dopo 30 anni vabbè lo capace anch'io vabbè almeno io una spada vado anch'io almeno lui lo uccide Pikachu manco sarebbe stato invito per vederlo Pikachu ma la finisca di dire queste bagianate adesso aspettiamo che muoiono tutti rivinteggiamo solo Pikachu e sulla fiducia la vinciamo con lui io direi di no allora lo sa lo sa ma che c'entra ma non lo pari neanche con Raiquaza con Raiquaza orca uta per dire ci avessimo noi Raiquaza non si può mai dire ma che nel prossimo titolo di Pokémon potrebbero potrebbero cose potrebbero succedere cose epiche epiche in che senso ok andiamo avanti poi abbiamo questa recita del CAD 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 mai stato del CAD no però ho disegnato col CAD mi sta un po' sul CAD effettivamente qui invece troviamo i due paladini della giustizia ciccio e cazzo io faccio un altro va facci lei questo tu non sai no tu non ne sai nulla cerchiamo un tipo alto ma così alto che sembra un semi per allungato in verticale che battuta abbiamo saputo abbiamo saputo che il Team Flare lo sta cercando per qualche motivo che realizzazione ci sia ok realizzazione ci sia tra il Team Flare e quel tipo è un mistero comunque M&M Game prendi questo spazzarauto pancaci in culo è appunto che è vitalizzante giusto ci servono molto per Pikachu ah ora che ci penso è da tanto che non ci si vede tra l'altro non so ancora il tuo nome non so ancora il tuo nome dunque noi siamo qui perché un certo professore ci ha incaricati di fermare il Team Flare e già si sono sputtanati appunto anche tu sei qui per quello stesso motivo fai attenzione mi raccomando che sei una merda no non l'ho detto questo vabbè noi li guardiamo mentre rimano dalla statuina ma sì adesso rimarranno lì per degli anni per le ragnatelle i capelli che si allungano la barba anche la donna la donna sì ebbè ovviamente revitalizzante ne abbiamo quattro revitalizziamo il nostro Pika 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 Pikachu poi chi c'è? chi c'è di morto qua? tutti tutti bene basta abbiamo finito il revitalizzo pozioni o non ne ha? no complimenti ce le ho ma non ci voglio spiegarle Pikachu così ma no per il Pikachu anche ma tanto non servono perché riusciamo comunque a Massimo che cifollina qua voleva andare lei sì io volevo farmi un giro anche di qua e vedere c'è un cazzo c'è solo una Pokéball la Pokéball revitalizzante che è molto utile nel cestino forse c'è qualcosa di interessante il buco di maiale non lo so è vuoto bene però c'è dal cestino prendiamo il cestino prendiamo il cestino questo qui che cazzo vuole? un cazzo questo qua vede? vede perché sono venuto qua? vede? per sprecare il tempo cos'è la provocazione? era una mossa? provoca provoca la provocazione provoca l'ira degli altri così ci mettono una cucina appunto qui troviamo un altro personaggino sì un ciuffo di red di red io però tirerei fuori il Pikachu il Pikachu però intanto noi abbiamo chi abbiamo? abbiamo il nostro amico mangia poco va bene allora usufruiamo del suo potere per mangiare gli altri morire anche questa volta no ora riuscirà adesso riuscirà a vincere vedrà che vincere vincere ce la faccia c'è la faccia di provocazione serve a tanto c'era ce la faremo sono sicuro che ce la faremo sì ci abbiamo fatto un attimo non può cambiare mossa è vero che non conosce provocazione è vero perché ho avuto prendere provocazione provocazione serve solo per volevo usare riposo ma non posso non si può sono in pieda al panico panico tanto manico panico 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 paura ebbè comunque qui c'era solo un po' come questo cazzo e c'era anche il mulino usiamo sgranocchio che cazza fa sgranocchio sgranocchio ma che sismocchiamo lui ci sberleggia ci sbeffeggia ci sbeffeggia e niente e qui moriamo 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 ah no usa bull perché è molto intelligente si vede anche quando andava a scuola certo si vede tutti i voti alti ci ha confuso ah perché l'ho usato bull ma noi siamo intelligenti e e moriamo come gli handi power e va bene ah scarso mandiamo aiutare con chi? con il suo amico con il suo amico ah creato fuori il pikachu lo tira fuori così senza pudore serve soltanto un diversivo un diversivo per far caricare l'energia degli altri ma che ci vuole tanto che tu ride tanto che tu ride vai scemo cazzo ridi eh vabbè allora andiamo giù con scarica scarichiamolo di brutto va bene ma si può usare visotruce lei ce l'ha tanto con con provocazione visotruce allora a me non ride provocazione c'è sta mano che sta mano che eh sì ha ragione ha ragione ai 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 allora questo qua intanto ci strappa i capelli i peli del naso delle orecchie della lingua anche tutti i peli tutti vabbè io direi di chiudere qui il non va avanti voglio andare qua in parte a lui siamo due reclute del team Fleur ma si anche no perché era meglio il team Rocker si permette una roba più fa il team Rocket che cosa ho detto se non avevi a passare dei cuori no aveva ci perdere sta cagata la voleva fare dall'inizio il video finisce qui amici vi ringraziamo per averlo visto vi ringraziamo per averlo visto vi ricordiamo di lasciare un mi piace un commento iscrivetevi alla canale condividete se potete i nostri video condividete un saluto e un ringraziamento dal vostro MR e MK tu vi continuate